Quando sei arrivato? Ieri sera alle 1 perché abbiamo fatto un viaggio molto tranquilli. Pioveva? No, ieri sera no. Adesso piove. Hai visto come cambia il tempo? Certo. Averli in carne nostra è insurdo. Prova multa o incisa? Ho questa sensazione. L'abbiamo fatto. Pronti? Prova incisa? Sì, sì, proviamo perché insomma... E qui Guaudi, posso andare? Sì, 4 prima.